Ciao, sono Katia Vaccari e oggi vediamo i migliori esercizi per ottenere pancia piatta e core stabile da fare tramite i plank. Infatti per me i plank sono i migliori addominali che puoi fare, sia per ottenere appunto un addome piatto, senza dilungarmi che non basta fare addominali, ma anche per ottenere una schiena forte e stabile. Quindi no ai crunch classici, sì ai plank. Vediamo assieme una serie di quattro esercizi che puoi fare anche ogni giorno e ripetere dalle tre alle cinque volte. Io ti consiglio comunque di farli massimo tre volte perché sono abbastanza impegnativi. Partiamo subito con un plank classico su mani con richiamo di ginocchio frontale. La cosa importante nel plank è l'esecuzione, quindi metti bene le mani perpendicolari sotto le spalle, distendo entrambe le gambe, stringo forte addome e da qui vado a richiamare il ginocchio al centro delle tue mani. Ne andiamo a fare dieci alternati. Inspiro e fuori aria. Due, tre, quattro, richiama bene il ginocchio. Cinque, rimani con il gluteo basso. Sei, sette, otto, nove e dieci. Perfetto. Il nostro secondo esercizio invece è un side plank, quindi un plank sul fianco. Andiamo a mettere l'avambraccio in appoggio, perpendicolare il gomito sotto alla spalla, le gambe sono incrociate e distese. Da qui distendo il braccio vado a muovere il braccio sotto, diciamo al fianco opposto. Ok, ritorno, ne andiamo a fare solo tre per parte. Inspiro e rimani su alto sempre bene con il fianco. Due, tre e andiamo a fare il cambio. Chiaramente man mano che ti alleni ne puoi aggiungere, ne puoi fare di più. Io parto comunque da delle esecuzioni abbastanza basic. Ok, da qui richiamo sotto. Uno, controlla la postura. Due, torno bene perpendicolare qua e tre. Ok, prossimo esercizio andiamo invece adesso sull'avambraccio, quindi facciamo un plank and side flex. Per cui, avambraccio qua bene in appoggio, gambe distese, stringo addome, richiamo il ginocchio all'esterno verso il gomito dello stesso lato. Sempre dieci alternando, quindi uno, due, fuori aria bene, tre, quattro, cinque, sei, sette, richiamo fuori aria quando richiamo, otto, nove e dieci. Perfetto, ultimo esercizio andiamo a metterci di nuovo sul fianco, quindi ritorniamo a fare un side plank, sempre tre per parte, avambraccio in appoggio. Adesso mano alla nuca, gomito qua bene largo, sollevo il fianco, vado a portare il gomito verso il gomito opposto. Inspiro e fuori aria, due e tre. Qui, occhio non dondolare da una parte all'altra, ok? Cerca di stabilizzare e di fare il movimento bene controllato. Da qui, mano e vado. Uno, due e tre. Perfetto, questi sono solamente alcuni dei tantissimi esercizi con i plank che puoi fare, ok? Io ho raccolto, diciamo, tanti esercizi per l'addome in un programma che si chiama proprio Addome al Top e che trovi al link che ti metto qui. Mi raccomando, abbina sempre una corretta alimentazione e tutta un'altra serie di esercizi, quindi per le braccia e per le gambe, per aumentare comunque il tuo metabolismo. Un abbraccio, alla prossima. Ciao!